Ciao a tutti amici di gastronomia cucina America. Siamo Serena e Tatia. Siamo arrivati a novembre e mi sento di dire che tra un po' è Natale. Ragazzi non fare così, ma oggi parliamo del box lavoro. Ok. I quattro menù per la vostra pranzo-pranzo. Apprendista e impiegato caporeparto dirigente, prenotateli e ritirateli sono squisitissimi. E proprio per inserire un'insalatina nel nostro box lavoro. Oggi vi abbiamo preparato come ricetta l'insalata di manzo. È un'insalatina molto fresca che va bene tutto l'anno e che sicuramente apprezzerete. Gli ingredienti sono ovviamente il manzo fumicato tagliato a fettine. Posso mettere dentro? No. No, perché vi faccio vedere prima grana. Tagliato a scaglie. Ok. Poi c'è i carciofi sempre tagliati a fettine che mettiamo qui dentro. Il sedano che ora finisco di tagliare. E poi olio, limone e sale. Per realizzare il taglio del grana sottile utilizziamo questa lama. Ho preso questo disco proprio perché è di uno strumento, al maggio, che potete avere probabilmente anche a casa. Questo ci permette di avere un taglio proprio sottile. Ecco che Katia ha terminato di mettere gli ingredienti. Aggiungo il sale e l'olio e il limone che avevamo pesato prima. Eccoci qua. L'insalatina di manzo con il grano e il carciofino nel sedano. La ricetta di Gastronomia Cucinamica. Vi ricordiamo di iscrivervi alla nostra rubrica YouTube Cucina Vista Social e di seguirci sui social Facebook e Instagram. Al prossimo video. Ciao!